In quella piazza gremita fra tanti volti e storie scopriamo solo ora che ce n'era uno speciale. È Marisa Dobisson, sorella minore del militare salvadoregno Roberto Dobisson, colui che la commissione d'inchiesta istituita dalle Nazioni Unite per accertare la verità sulla guerra civile degli anni Ottanta in Salvador, ha definito senza mezzi termini e con documenti schiaccianti il mandante dell'assassino di San Oscar Romero, mentre alzava l'ostia sull'altare, questo l'audio originale dell'attimo dello sparo. Marisa, all'epoca assistente sociale, è stata sempre molto legata alla figura del Monsignore, cattolica devotissima del Neosanto, oggi è impegnata nella fondazione a lui dedicata in passato, ha raccontato di aver sofferto molto per la strada intrapresa dal fratello. Rifarendo il particolare di quando, nel 92, andò a trovarlo in un letto d'ospedale il giorno prima della morte, devi morire in pace, affidati a Romero, gli disse, e chiedigli perdono dal più profondo del tuo cuore. Il maggiore Dobbisson, ormai moribondo, non parlava già più, ma solo strinsi a sé faccia a faccia, sua sorella iniziando a piangere, chissà, forse un pentimento tardivo. Di certo sorprende la forza di questa donna che ha voluto essere presente in piazza alla canonizzazione del martire Romero, come ha confermato alla giornalista di Avenire Lucia Capuzzi, nostra ospite domenica in studio, raccontandole che cosa ha provato. Per me è stata, la verità, una grazia grande aver potuto venire a Roma a presenziare questo atto dove il chefe dell'Iglesia Cattolica, la cabeza dell'Iglesia, il Papa, dice pubblicamente che Monsegnor è santo, è un santo dell'Iglesia. Commovente la risposta all'ultima domanda, cioè se domenica durante il rito abbia pensato a suo fratello, il maggiore Roberto Dobbisson. Si, fíjate, me dio, me dio mucha tristeza, y pedi por él, si.